Luca, allora dobbiamo commentare una partita con Colombo simile a quella contro il Taranto Boben ha detto una frase fortissima, abbiamo perso fiducia in noi stessi Colombo ha detto dobbiamo ritrovarci, sembriamo i fratelli di quello di inizio anno Adesso c'è da stare in silenzio e lavorare, cercare di ritornare un po' la squadra bella che è stata ammirata Ci sono dei momenti della stagione in cui le cose vanno male, questo è uno di questi L'abbiamo già detto in altre partite, oggi abbiamo fatto una partita brutta Abbiamo preso gol comunque anche noi al primo tiro in porta, forse unico tiro in porta che hanno fatto loro Noi dobbiamo cercare di creare di più perché anche noi non abbiamo fatto tiro in porta Nella partita da 0-0 noi in casa dobbiamo cercare di vincere queste partite Ti chiedo dall'alto della tua esperienza, perché secondo te questo momento? È un caso dopo la partita con il Catanzaro o qualche avvisaglia se era vista già prima? Adesso capire perché si perdono le partite è difficile, è anche difficile capire quando si vincono A volte vai in campo, giochi e vinci, a volte vai in campo, giochi e perdi Sicuramente le squadre cominciano ad aspettarci, basse, loro oggi hanno fatto 4-4-1-1 Tutti i bassi schiacciati e noi facciamo fatica a trovare delle giocate offensive Perché credo che a livello difensivo la squadra abbia fatto una buona partita È una nostra prerogativa, magari sì, oggi un po' meno forti sulle seconde palle Però anche nel secondo tempo abbiamo cominciato bene Poi capita magari un episodio, prendi gol su rigore, loro si chiudono dietro Poi sono passati anche a 5 e noi dobbiamo trovare dei modi per fare gol e creare delle occasioni Però ripeto, dobbiamo lavorare, vedremo i video, capiremo perché Però credo che insomma, bisogna anche ricordare che siamo terzi Questo è un campionato difficile Siamo in un periodo in cui su 5 partite abbiamo perso 4, dobbiamo cercare di reagire